Personalizzare il form personalizzabile Clicca sull'app Form personalizzabile per aprire la barra di modifica. Clicca sulla barra e sull'icona Rotellina. Puoi impostare una risposta automatica. Scrivi il testo di risposta e conferma con una spunta su Autorespondere OK. Dall'icona Colore puoi modificare i colori del pulsante, sfondo e testo e aggiungere una sfumatura. Puoi modificare il colore del testo, dell'etichetta e del campo. Dall'icona Carattere puoi selezionare il font e la dimensione. Se hai inserito diversi form personalizzabili, clicca sull'icona Etichetta per assegnare un tag di riconoscimento al form personalizzabile. Grazie. Grazie.